Siamo in posizione toscana E' il cielo di notte, ok? Andiamo avanti e abbiamo puntato la Polaris Vedete che man mano che cambia l'orario Lo sto spostando di un'ora alla volta La stella polare rimane sempre nel punto preciso del meridiano Ok? Andiamo a vedere la Croce del Sud Dovrebbe funzionare nello stesso modo Questo è il meridiano E se noi ci spostiamo Vedete che ogni ora La bella stella del Sud Si sposta sull'orizzonte Non rimane fissa come la stella polare C'è qualcuno che sa spiegare questo? Semplicissimo Quello che si vede al Sud E' un riflesso E l'abbiamo già spiegato Di quello che succede al Nord Provate a fare un timelapse E vedrete che Questo timelapse Si sposta a differenza Della Praticamente della stella polare Poi se volete Ce n'è un'altra da andare a cercare Perché Un paio di volte all'anno A 90 gradi Si vede la stella La stella del Sud Anche questo è interessante Cercate di capire Che c'è una rifrazione a specchio Per quanto riguarda L'osservazione del cielo Attraverso la fornita pagina Indice alfabetico Trovate un sacco di spiegazioni Che sfatano quello Che ci hanno iniettato Fin da piccini Quando non eravamo in grado Di ribattere su cose Che non potevamo comprendere Ma adesso Che abbiamo capito Che ci hanno E ci stanno mentendo Su tutto Anche sul meraviglioso Regno Piano Che ci ospita È vostro dovere Disimparare Quello che ci hanno fatto Imparare a memoria E ristudiare Per questo argomento Trovate un sacco di voci Su stelle E stelle al Sud Qualsiasi studente di Dante Sa che nella prima parte Del primo canto del Purgatorio Egli sembra descrivere La costellazione Della croce del Sud Nelle due famose terzine Versi 22 e 27 Quelle stelle Sono interamente visibili Nel nostro emisfero Solamente a partire Dal 27esimo parallelo Di latitudine nord Ossia dalle isole Canarie O sul lato opposto Dell'Africa Dall'estremità meridionale Della penisola del Sinai Come lo spiegate Qui nell'emisfero nord Se osserviamo L'equatore celeste Qui vediamo Una parte dell'emisfero Sopra l'orizzonte del nord E la rotazione Delle stelle del Sud Abbiamo due rotazioni Delle stelle Se non avete una fotocamera Dovete credermi Perché non sto facendo Le fotografie delle scie Delle stelle Ne altro simile Cercate di ascoltarmi Perché è la verità Ok? Se iniziate a fotografare Le scie delle stelle Avrete una rotazione Simile a questa Ed avrete una Oscillazione Guardando a Sud Andando diritto Sopra il meridiano Da nord a sud Avremo una rotazione Circolare completa Qualcuno è in grado Di spiegarmi Se viviamo Su una palla rotante Perché All'istante Ho fatto un cerchio Di 360 gradi Di rotazione Nel cielo E la palla Della vostra terra Non ha ruotato Nemmeno di un grado Ok? E nello stesso momento Se hai un'altra fotocamera Vicino a questa Che sta facendo Un timelapse Con una montatura Equatoriale Posso tracciare Una stella In quella rotazione Questo si sposta Lentamente a ovest Fuori da quella rotazione Se quella rotazione Si muove Di 15 gradi Per ora E Ognuno che sta Ascoltando Sulla sciocchezza Della palla che gira È in grado Di spiegare Perché questo cerchio Ma come spiega Questo spostamento De 15 gradi Allora che si sposta In questo modo Perché tutte le stelle Che si muovono All'interno Di questa rotazione Si muovono Tutte fuori Ma voi avete Solo un'immagine Sul vostro meridiano Il vostro arco Sull'orizzonte E il fotografo Delle scie E delle stelle Riprende tutte le stelle Nella loro rotazione Perché Questa rotazione È effetto specchio Della rotazione Del nord Se andiamo diretti Da nord a sud Abbiamo una rotazione A specchio Eccetto che Quelle stelle Sono un piccolo Segmento Della rotazione A nord Abbiamo un cerchio Permanente a sud Perché è sempre La rotazione permanente Del vortice Che si trova a nord Si tratta Del riflesso Della rotazione Centrale a nord Della creazione Che si riflette In alto Nel cielo di notte Perché c'è sempre Un movimento a vortice Al centro dell'artico Non visibile Dall'uomo